La salma del boia delle Ardiatine sarebbe stata rapita dai servizi segreti italiani. L'accusa è di Paolo Giacchini, legale della famiglia Pribke. Secondo quanto affermato, il cadavere sarebbe stato portato via da una trentina di uomini che avrebbero picchiato quattro persone che lo vediamano all'interno del convento di Albano Laziale. L'accusa del legale, lo Stato, vuole coprire tutto con il segreto di Stato. Eric Pribke è stato l'autore di una delle stragi più mostruose della Seconda Guerra Mondiale. Alle fosse Ardatine fece fucilare 335 civili italiani a seguito di un attentato compiuto da partigiani romani contro truppe tedesche in transito a Via Rasella. Ritrovato da un giornalista a Bariloce in Argentina quando ormai era vecchio, è stradato in Italia dove è stato condannato, è morto qualche giorno fa all'età di 100 anni. Una delle figure più tragiche e aberranti mai conosciute nella pur devastante storia della Seconda Guerra Mondiale. Nessuno, neanche i tedeschi, vogliono accollarsi la salma. Comprensibile chi vorrebbe un mostro di tale guisa nella propria terra, neanche quanti da quella terra lo hanno generato.